Allora vi voglio parlare di questo bracciale della marca Casisto, allora vi dico subito, lo voglio fare insieme a voi, cioè sto parlando dell'unboxing, lo andiamo ad aprire, questo è il braccialetto, mi è piaciuto moltissimo dalla fotografia, però questa volta insieme vedremo se realmente la fotografia rispecchia la realtà, o meglio se la realtà rispecchia quello che riportate in fotografia, perché questa qua veramente è fotografato molto bene, mi piace anche molto la confezione, mi piace il tipo di bracciale, ma insieme andiamo a vedere cosa esce all'interno di questa scatola immediatamente, la vi dico subito armatevi di santa pazienza perché qua per aprire questa busta è davvero quasi impossibile, eccola qua la confezione è fatta veramente molto bene, mi piace anche la scatola è dorata o meglio bronzata scura, vediamo un pochettino all'interno cosa esce, vediamo insieme, ecco qua, vediamo cosa succede, non vorrei fare qualche guaio, bello mi piace, come è confezionato, è confezionato veramente molto bene, eccolo qua, ulteriore busta all'interno e abbiamo anche un piccolo, ecco qua, un bigliettino che comunque è sempre gradito, dove ci ringraziano per l'acquisto, che sono felici e ci danno anche una mail di supporto eventualmente, ci dovesse essere qualche problema, ma lo mettiamo da parte perché a noi quello che interessa, mi interessa è vedere questo bracciale, ricordo che è 22 cm, lo tiriamo fuori piano piano, mettiamo via la busta perché ci riflette, allora vi dico, vi dico che è del tutto uguale alla fotografia, quindi fatto veramente molto molto bene, ve lo faccio vedere bene da vicino, eccolo, bello, guardate anche all'interno, non è diverso assolutamente dalla fotografia, eccolo qua, eccolo qua, ve lo faccio vedere bene, vedete, bello, probabilmente forse sembrava satinato, però è una bella guaita d'acciaio, è assemblato molto bene, devo vedere come si apre, capiremo subito come si apre, ah ecco, perfetto, benissimo, c'ha un attacco magnetico, in questo caso, ecco, guardate, l'attacco è magnetico, c'è un magnete, è fatto molto bene, devo dire la vita, è anche difficile che scappi via perché è molto doppio, c'è assemblato benissimo, guardate qua, bello, mi piace, 20 cm è la lunghezza, ma ci sono altre varianti, ecco qua la serigrafia che vedevamo in foto, ve la faccio vedere meglio, mettiamo a fuoco, eccola, ora la vedete meglio, allora io ho un polso grande, quindi vediamo un attimino, facciamo la prova del 9, guardate, va bene assolutamente, riesco anche ad agganciarlo facilmente, guardate, è calamitato, bellissimo, devo dire a età, è molto molto bello, mi piace, mi piace molto perché si divide in tre, bello, non me l'aspettavo, veramente bellissimo, mi piace molto, bello, perfetto, per sganciarlo basta fare in questo modo qua, vedete, con un poco di attenzione perché essendo calamitato, facciamo così e l'abbiamo sganciato, ora sta poi la scelta se acquistarlo oppure no, però vi dico che comunque è veramente un bel regalo, il cuoio vediamo se profuma, allora vi dico un'altra cosa, perché non vi vedete in telecamera, il cuoio ha un profumo eccellente, ricordo il cuoio della Timberland, bellissimo, allora io sinceramente ve lo dico, gli do 5 stelle, se ci dovessero essere problemi che si dovesse rompere o altri problemi di sorta, vi avvertirò nella recensione, però vi dico subito che a livello anche di colore, a livello di assemblaggio, la chiusura magnetica, sono veramente un valore aggiunto a questo prodotto che potrebbe essere un regalo molto ben fatto, anche perché la scatola è molto bella, quindi fate sicuramente un figurone, mi sa che domani me lo metto, che ferra costa, ciao a tutti!